Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival La grande festa del cinema indipendente e internazionale Tre grandi eventi ad ingresso gratuito 10 novembre Notte Horror 11 novembre Animazione e cortometraggi 12 novembre Documentari e lungometraggi Dal 10 al 12 novembre Voghera Film Festival 2017 Al The Space Cinema di Montebello della Battaglia Benvenuti a Vox Populi Tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera Risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno Anche in Italia non si potranno più utilizzare animali in circhi e spettacoli viaggianti Come già accade in altri 50 paesi in tutto il mondo Questo grazie alla legge approvata ieri sul riordino del settore dello spettacolo Che è stata approvata con 265 voti La nuova legge prevede il graduale superamento della presenza degli animali nei circhi Favorevole o contrario a questa legge che farà ovviamente contenti gli animalisti? Se sono trattati bene e se non li fanno male Che non porta danni Allora penso che non c'è qualcosa di male Ma se in la verità più pulita è così Gli animali sono creati dal creatore essere liberi Nel senso in foresta, in giungla Vogliamo o no? Siamo noi che li abbiamo fatti come prigionieri Nel senso anche questa cosa non è giusta Anche questo lo dico sul serio Quindi è un 50-50 50-50 favorevole e 50 trovi che non sia 50-50 Sì sì è così ma più giusto è che non è giusto essere in circo Perché li rubiamo in libertà Completamente indifferente Come mai indifferente? Indifferente perché ci sono sempre stati gli animali nei circhi E non vedo perché non dovrebbero esserci più Chi dice che l'animale ovviamente deve in qualche modo rinunciare alla propria libertà All'interno del circo addirittura la propria personalità viene stravolta perché è costretto a fare spettacolo Quindi secondo te esagera oppure pensa troppo all'emotività degli animali? Beh deve esserci il rispetto sicuramente per gli animali Al di là del fatto che siano in un circo o siano in una casa penso Sì era ora non se ne poteva più Lei è mai stato ad un circo con gli animali? No in la verità non sono stato mai ma ho visto animali in bar dove lavoravo in Albania Come un piccolo scimione che era sempre chiuso Era trattato molto bene ma era prigioniero No Non evidentemente perché sei contrario ma perché non ti piacciono No non me ne fregai nulla assolutamente Non ci sono mai stata e non ci andrò mai